E anche oggi parliamo di libri, ben trovati, nuovo appuntamento con Tra le righe consigli di lettura, questa volta in libreria, perché per i tanti che ci seguono sanno che c'è un appuntamento con i libri e i suoi autori in collegamento Skype, è un appuntamento in cui ci piace proprio mostrarvi i libri cartacei, in carne e ossa osere dire. Bene, pensieri, esperienze e suggerimenti. Questo è il titolo di questo agile volumetto edizioni Padre Pio da Pietrelcina con una bella immagine del nostro santo frate stigmatizzato in copertina che sorride ed è un libro, sono tanti di questo genere, forse ne abbiamo anche presentati in passato, in cui ci sono delle frasi, delle espressioni, degli ammonimenti di Padre Pio. C'è anche un breve commento introduttivo. Sono riflessioni, osservazioni molto semplici e in qualche modo anticipano l'idea centrale poi di quello che sarà la riflessione dettata da Padre Pio. Ci piace anche dire che questo è uno di quei tanti libri che non sono di lettura continuata, è un florileggio, quindi potete cogliere un fiore al giorno, più fiore al giorno, farli vostri e quindi, come dire, metabolizzare le parole, il significato di quello che Padre Pio ci ha detto, ha raccomandato ai suoi tanti figli spirituali. Quindi leggere questo, un passaggio, chiudere il libro e perché no meditare. Ci auguriamo, leggiamo nella presentazione, che questo mosaico opera di tante tessere, quanti sono i brani riprodotti e intrecciati tra di loro, sia di gradimento ai figli spirituali e agli ammiratori del venerato Padre Pio, che lui possano trovare uno stimolo a seguirlo da vicino nell'itinerario verso la santità. E allora, facciamo proprio così. Prendiamo una frase a scelta, proprio aprendo a caso il libro, visto che appunto non è di una lettura continuata. Pagina 79 Parole del Santo di Pietrelcina. Sono tante, così come tante sono anche le immagini che troverete all'interno di questo libricino, che vi consiglio. Pensieri, esperienze, suggerimenti, edizioni Padre Pio da Pietrelcina. Lui si chiama Padre Maurizio Botta, classe 1975, è sacerdote dal 2006 circa, è sacerdote dell'oratorio di San Filippo Neri a Roma e guida delle catechesi, degli incontri, con uno stile davvero preciso e di grande impatto, allo scopo di mettersi in dialogo con le persone, soprattutto quelle che si sentono molto lontane dalla Chiesa, offrendo loro una spiegazione pacata, quindi come dire, non con il dito puntato, di quelle che sono le ragioni della fede su vari argomenti. Questo libro si intitola Nati guasti, cinque passi al mistero, la prefazione di Costanza Miliano, il libro è edito dalla San Paolo. Questo libro nasce, quindi mette nero su bianco, quello che è un ciclo di catechesi per adulti e giovani che si è svolto per diversi anni nella parrocchia Santa Maria in Vallicella, Chiesa Nuova di Roma. Ne nasce davvero un racconto di Vangelo e di vita che potranno apprezzare anche i lettori, coloro che magari non hanno avuto modo di assistere alle catechesi dal vivo di padre Maurizio Botta. È un libro diviso in sei capitoli, ciascuno con un titolo, in cui appunto padre Maurizio raggruppa le domande che gli sono state poste e dà una risposta. Caro padre Maurizio, gli viene chiesto, cosa consiglia a quelle persone che sono in depressione e stanno pian piano perdendo la fede? Risponde padre Maurizio, la prima cosa che direi è quello che ho imparato dai direttori spirituali morti, perché il mio attuale direttore spirituale, padre Max, sostiene che per essere direttore spirituali bisogna imparare dai santi direttori spirituali, Francesco di Sales e Giovanni della Croce per esempio, e tutti loro sono unanimi nell'affermare che qualsiasi tipo di malattia e quindi anche la depressione non è un ostacolo al cammino di fede, ma è semplicemente una situazione di prova. La depressione è un momento di tenebra, una malattia diversa dalle altre, che ci mette alla prova, ma non esclude la possibilità di consegnare nella fede il dolore e la prostrazione che ci procura. Sostenere che durante la depressione non si può vivere la fede sarebbe pericolosissimo, così come è sbagliato fare il parallelo tra questa terribile malattia e la perdita di fede. Non esiste alcun automatismo, anzi, conosco persone che soffrono intensamente di depressione, ma che con grande umiltà, abbandono e dolcezza consegnano i propri dolori e le proprie fatiche a Dio. Pur soffrendo di depressione, non solo non hanno perso la fede, ma stanno compiendo un cammino forte e profondo. Questa è la riflessione di padre Maurizio. Ce ne sono anche altre, più brevi, un po' più lunghe, e poi appunto non è solo un libro composto da domande e risposte, sia chiaro. Prima c'è la Catechesi di Don Maurizio Botta e poi appunto c'è la domanda che viene posta dal gruppo di fedeli, coloro i quali hanno partecipato alle Catechesi. Molto interessante, ve lo consiglio, davvero. Nati Guasti, Cinque passi al mistero, edito dalla San Paolo, firmato da padre Maurizio Botta. Marie-Christine Bernard insegna teologia e antropologia in Francia. Da anni offre incontri di formazione e consulenza a dirigenti di impresa, ma non solo. Beh, in questo libro, come dire, si lancia in un'avventura non molto facile, perché è un testo fondamentale per un'educazione responsabile, aperta e serena. E le domande principali che si pone l'autrice in questo libro è possibile trasmettere la fede in Dio e soprattutto l'arte di essere genitori alla luce del Vangelo e della propria fede, perché, come scrive anche nella presentazione, diventare genitori è una vera e propria avventura alla quale nessuno è mai pienamente preparato. Non si nasce genitore, si diventa padri o madri. E' molto interessante, non ho dimenticato di dire il titolo fondamentale, ma avete capito che si tratta di Genitorialità, edito dalla LDC, Genitori Oggi, un'avventura umana ma anche spirituale, soprattutto spirituale. Nel capitolo 3 l'autrice parla di quanto importante sia un termine, un compito, allevare. Infatti il capitolo si intitola proprio così, il bambino, una persona da allevare. Da alcuni decenni a questa parte il termine non ha buona fama, a differenza del termine cultura che richiama coltivazione, comune anche all'universo agricolo. Allevare non è forse un compito da allevatore, il termine infatti ha un duplice significato, quello di condurre gli animali alla maturità per ricavarne un nutrimento consistente e occuparsi correttamente dei bambini. Parlare, in questo caso, di allevare i bambini determina infatti una percezione del progresso e della direzione verso cui deve andare, grazie all'impegno dei genitori che ne hanno la responsabilità nella loro realtà culturale. Nell'espressione allevare i bambini si trovano in realtà tre elementi che si incastrano uno nell'altro come matriosche. Vediamo quali sono questi tre elementi. Allevare significa soprattutto curare, prendersi cura di qualcuno. Con il termine allevare significa aiutare anche il bambino a familiarizzare con l'orizzonte che lo solleva in quanto essere umano e quindi è un'elevazione. E poi è importante anche, in questa logica, allevare un bambino significa anche insegnarli a rimanere in piedi, in senso proprio, ovviamente quando impara a camminare, ma anche in senso figurato. Il bambino deve imparare a reggersi sulle sue gambe e camminare. Nello stesso tempo deve anche imparare a procedere nella vita sociale. Riassumere in poche parole questo libro sarebbe davvero un'impresa perché sono tantissimi gli spunti di riflessione che potete trovare al suo interno e un percorso interessante, appunto duplice, come dicevamo, un'avventura umana e spirituale che i genitori si trovano a dover affrontare quando diventano tali e, perché no, utile anche per gli educatori, potrebbe essere un consiglio. La LDC pubblica questo libro di Marie Christine Bernard intitolato Genitori Oggi, un'avventura umana e spirituale. Abbiamo parlato di essere genitori, padri, madri e la mamma per eccellenza, la Vergine Maria. Tra i tanti libri di storie che Bruno Ferrero ha scritto, ce n'è uno in particolare, intitolato Ti racconto Maria, 31 storie per parlare della mamma di Gesù, è edito dalla LDC. Pagina 32, anche in questo caso appunto le storie sono una scollegata dall'altra, quindi potete sceglierne una a caso. Leggiamo questa, La Sperduta. A Roma, tanti anni fa, la Basilica di Santa Maria Maggiore era ancora circondata dalla campagna. Il suono delle sue campane, specialmente alla sera, arrivava molto da lontano e invitava alla preghiera tutti gli abitanti delle casette sparse nei dintorni. Da una di quelle casette uscì un giorno una bambina, Maria, per andare a far visita ad alcuni parenti che abitavano in aperta campagna. Maria credeva di conoscere bene la strada, invece, sopraggiunta la notte, non seppe più orientarsi e si smarrì tra sentieri e stradicciole, senza più riuscire a trovare la via di casa. Dopo aver girato e rigirato, senza concludere nulla, anzi, confondendosi sempre di più, si mise a sedere su una pietra e scoppiò in un pianto dirotto. Ma nessuno passava di notte per quelle strade e nessuno poteva aiutarla. Si ricordò della Madonna e cominciò a recitare l'Ave Maria. Arrivata alle parole, prega per noi adesso, sentì il suono di una campana. Il suono si prolungava, si ripeteva, come una voce insistente nella notte. La bambina seguì quella voce e di sentiero in sentiero si ritrovò nella basilica di Santa Maria Maggiore e poté così tornare a casa. Da quella volta, la campana, che tutte le sere a luna di notte suona per qualche minuto, è detta la sperduta e ricorda la bambina che si era perduta nella campagna romana e i tanti che si perdono oggi nella città. Davvero molto bella questa storia, ma come tutte quelle scritte, inventate e create, da Bruno Ferrero, che per la LDC ha firmato «Ti racconto, Maria, 31 storie per parlare della mamma di Gesù». E questo era l'ultimo libro che vi ho consigliato oggi. Tra le righe torna in replica nei prossimi giorni con una nuova puntata la prossima settimana. Per seguirci vi rimando al nostro canale YouTube Padre Pio TV. Non solo per vedere questa puntata, ma anche quelle passate, se magari avete perso qualche consiglio di lettura. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti e buona giornata.